Ampliamento impianti civistici a Dovindoli, sopralluogo oggi del Presidente della Regione. Terremoto, progetti per sviluppo e occupazione, domani convegno sull'industria della ricostruzione. Offerta formativa al tecnico Galilei, attivato un nuovo corso per consulente esperto in europrogettazione. Impianto idroelettrico sul fiume Giovenco, il sindaco di Pescina ribadisce la contrarietà al progetto. Un cordiale saluto dagli studi di Antenna 2. In apertura notizia di cronaca, i finanzieri del nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza dell'Aquila hanno da poco eseguito un sequestro di disponibilità finanziarie e beni immobili per un valore di circa 200 mila euro emesso dalla locale autorità giudiziaria nei confronti dei responsabili di tre imprese aquilane esercenti del commercio di giocattoli e di due commercialisti. La misura cautelare già eseguita è giunta al termine di complesse indagini di polizia giudiziaria svolte dai finanzieri del capologo abruzzese a seguito di una segnalazione inoltrata alla Procura della Repubblica dell'Aquila dalla locale agenzia delle entrate. Con tale segnalazione, l'ufficio finanziario ha comunicato all'autorità giudiziaria che a seguito di mirati controlli di natura fiscale nei confronti delle predette imprese era stato accertato che le stesse, al fine di evadere l'IVA e le altre imposte sui redditi erano ricorse all'utilizzo e dalle emissioni di fatture fittizie per un importo di circa 200 mila euro. I finanzieri del nucleo di polizia tributaria, delicati dalla locale autorità giudiziaria hanno proceduto ad approfondire le risultanze dei controlli fiscali svolti dall'ufficio finanziario attraverso complesse analisi contabili al fine di accertare eventuali ulteriori illeciti connessi all'emissione e all'utilizzo delle fatture per operazioni inesistenti. Gli stessi approfondimenti hanno fatto emergere un ulteriore disegno criminoso concepito e realizzato dagli indagati attraverso gli stessi documenti fiscali fittizi quello di ottenere indebitamente attraverso la documentazione di costi in realtà mai sostenuti un contributo comunitario nell'ambito di fondi strutturali PolFest 2007-2013 stanziati per attrarre nuove imprese nell'area del cratere sismico. I carabinieri della Compagnia dell'Aquila, nel corso di un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato al contrasto dei reati contro il patrimonio e dei fenomeni illegali legati alla guida sotto l'effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti hanno deferito in stato di libertà 8 persone di cui 2 per guida in stato di ebrezza per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e 3 per furto aggravato in abitazione e 2 per rapine tentate di estorsione in concorso. Due in particolare di 51 e 24 anni a bordo delle rispettive auto sono state deferite per guida in stato di ebrezza all'esito del controllo mediante etilometro mentre una donna di 21 anni è stata deferita per essersi rifiutata di sottoporsi all'esame tossicologico dopo essere stata trovata alla guida del mezzo in possesso di una triterba ancora intriso di Mariana. VM di 31 anni di origine romene all'esito di indagini eseguite mediante acquisizione di filmati e testimonianze è stato riconosciuto responsabile del furto in un'abitazione ai danni di una donna di Montereale con dimora all'Aquila. Altre due persone di 39 e 37 anni sono state denunciate per reati in danno di una vedova ultraottantenne aquilana commessi approfittando del fatto che i due lavoravano presso l'abitazione dell'anziana quali addetti alle pulizie. Parte del bottino un orologio del valore di 700 euro è stato recuperato mentre la restante composta per lo più da argenteria ne è stata riscontrata la vendita ad una orificeria locale per un rispettivo pari a circa 2000 euro. Infine AF 32 anni e AF 36 anni sono stati denunciati a piede libero perché ritenuti responsabili in concorso tra loro di rapina e tentata di estorsione ai danni di un giovane di origine marocchine. Le indagini hanno evidenziato come due dopo aver asportato con atteggiamenti minacciosi e violenti il telefono cellulare e pochi euro dalle tasche della vittima l'hanno contattata subordinando la restituzione del maltotto alla collaborazione nella loro attività di spaccio di stupefacenti. Ancora cronaca, i carabinieri della compagnia di Tagliacozzo hanno notificato ai gestori di un locale di Carzoli la sospensione della licenza per sette giorni. Il provvedimento è stato emesso dalla questura dell'Aquila a seguito della richiesta dei militari che a novembre dello scorso anno avevano fatto un controllo all'esercizio commerciale. Grazie ad un cane del nucleo cinofili di Chieti all'interno del magazzino del locale durante un controllo nei bar e nei pub della zona del Castolano fu trovato un artificio perotecnico di quarta categoria contenente 142 grammi di sostanze esplodenti ed un manufatto contenente 142 grammi di principi attivi e sempre esplodenti. Successivamente furono controllati gli avventori ed il perimetro esterno del locale dove fu trovata della droga. Durante l'attività di carabinieri il padre dei gestori del locale aveva incitato i frequentatori del bar alcuni dei quali pregiudicati contro i militari turbando l'ordine pubblico ristabilito solo con l'arrivo di altre pattuglie. In considerazione del fatto che la detenzione di materiale che può esplodere non è consentita negli esercizi commerciali e che in questo caso non c'era neppure personale addetto a maneggiarlo. Il questore ha disposto, come detto, la chiusa del locale per sette giorni. Una buona notizia che si verificherà alla prova dei fatti sarà veramente importante. Parliamo dell'ampliamento degli impianti cistici a Dovindoi che può diventare una realtà. L'obiettivo finale è l'unione con Campo Felice per la più grande stazione sciistica a sud delle Alpi che consenta un collegamento sci ai piedi tra le stazioni di Campo Felice, Roccaticambio ed Ovindoli-Montevagnola. Questa mattina il presidente della giunta regionale Luciano D'Alfonso ha effettuato un sopralluogo nella stazione sciistica di Ovindoli accompagnato dal consigliere regionale Pierpaolo Pietrucci, presidente della commissione ambiente, territorio e infrastrutture e dai sindaci delle località interessate, cioè Pino Angelo Sante e Ovindoli, Mauro Di Cicco, Roccatimezzo, Gennarino Di Stefano, Roccaticambio, Lucilla Lili, Cappadocia, Gianluca Marrocchi, Luccoli. La finalità degli investimenti, ha commentato D'Alfonso, è quella di offrire un bacino sciistico sempre più grande ed articolato. Ci sono economie di risulta da recuperare ma ce ne sono anche altre che possiamo riscattare e che vogliamo utilizzare in questa realtà. L'intervento è ormai fotografato tra le priorità della regione. Il sopralluogo di oggi è un sopralluogo verità. Esiste un altro gioiello in Abruzzo ed è la vostra montagna che ci permette un finanziamento sempre più solido. Con Roma, dunque, ha proseguito, dobbiamo attingere da questa miniera relazionale che è capitale alzando un ponte formidabile che ci consenta, partendo dal cuore dell'Appennino abruzzese e nella spettacolare cornice dell'altopiano delle Rocche, di avere un rapporto privilegiato con Roma per il rilancio, lo sviluppo e la valorizzazione turistica. Il progetto in questione immagina la realizzazione di nuovi impianti con sette piste per dieci nuovi chilometri sciabili. La prima tranche dei lavori, che potranno partire entro la primavera, prevede la realizzazione di una seggiovia con due nuove piste già entro il 2016 ed il potenziamento del sistema di innevamento artificiale. L'intervento economico complessivo è di oltre 12 milioni di euro. I soldi della ricostruzione impegnati in progetti di investimento e di innovazione. A sette anni dal sisma, la città dell'Aquila fa il punto dei progetti di sviluppo occupazionale e produttivo attivati con le risorse della ricostruzione. Un passaggio importante che potrebbe fornire all'Aquila e dal comprensorio la spinta decisiva per il rilancio. Di progetti, investimenti e prospettive di sviluppo si parlerà domani, 17 febbraio, presso l'auditorium del Parco dalle ore 15 e 30 grazie al convegno l'industria della ricostruzione organizzato dalla regione Abruzzo e dal comune dell'Aquila. E saranno proprio il vicepresidente con delega alla ricostruzione Giovanni Lolli e del sindaco Massimo Cialente ad aprire i lavori ai quali sono stati invitati Gian Piero Marchesi, coordinatore della struttura di missione della presidenza del Consiglio dei Ministri e Bernardo Mattarella di Invitalia, l'Agenzia Nazionale per l'attrazione di investimenti e sviluppo d'impresa, prevista anche la presenza del Presidente della Giunta regionale Luciano D'Alfonso. Portiamo sul tavolo della ricostruzione industriale i primi importanti progetti di rilancio, spiega il vicepresidente Giovanni Lolli. Presentiamo insomma il lavoro portato avanti per anni per ricostruire un tessuto industriale che guarda all'innovazione esaltando le eccellenze del territorio Aquilano. L'industria della ricostruzione potrà dunque contare sui primi dieci progetti che saranno presentati domani all'auditorium del Parco. Nomi e cognomi delle aziende che entreranno in progetto di sviluppo e investimento e che credono ad un rilancio definitivo del post-sisma. La Regione Abruzzo prosegue Giovanni Lolli con le altre istituzioni locali e le organizzazioni economiche, sociali e professionali del territorio da tempo lavora per favorire una strategia di ripresa e l'avvio di progetti industriali caratterizzati da ricerca tecnologica, innovazione produttiva e nuova occupazione. L'Istituto Tecnico Economico Galilei di Avezzano ha inserito nell'ampliamento della propria offerta formativa un corso per consulente esperto in europrogettazione. Vediamo di cosa si tratta nel nostro servizio. Una scuola che guarda il futuro dei giovani cercando di coniguare la formazione e l'occupazione. In questo contesto l'Istituto Tecnico Economico Galilei di Avezzano ha condotto una accurata indagine di mercato per ricercare nuove figure professionali più rispondenti alle esigenze del contesto socio-economico e più richieste dal mondo del lavoro. Ne è emerso che una delle figure di cui il mercato occupazionale necessita oggi maggiormente è il consulente esperto in europrogettazione con un profilo professionale capace di affrontare le problematiche economiche e finanziarie inerenti ai vari ambiti di operatività dell'Unione Europea in grado di elaborare, gestire, valutare e rendicontare progetti di sostegno finanziario con sbocchi lavorativi nel privato e nel pubblico in ambito locale, nazionale ed europeo. Per questo la scuola ha voluto inserire nella sua offerta formativa il nuovo corso ad indirizzo europeo di durata quinquennale quale variante dell'articolazione di amministrazione, finanze e marketing già presente nell'Istituto. È un percorso formativo di eccellenza ed offre una valida opportunità per i ragazzi delle terze medie che si orientano ad una scelta consapevole della scuola superiore. L'indirizzo europeo inserisce la novità dell'europrogettazione nell'ambito delle discipline di economia aziendale, informatica, diritto italiano ed europeo, relazioni comunitarie internazionali, italiano storia e geopolitica. Il corso si rinnova nei programmi con una considerazione ampia ed attuale delle problematiche europee e prevede lo studio di tre lingue inglese, spagnole e cinese o a scelta francese. Inoltre il corso si caratterizza per una ampia proposta formativa in ambito di alternanza scuola lavoro attraverso l'interazione con enti locali, la regione Abruzzo, le università ed esperti del settore. Informazioni più dettagliate nelle interviste del dirigente scolastico Corrado Dell'Olio e della responsabile del progetto scuola lavoro Stefania Giulio Cesare. Siamo nella sede dell'Istituto di istruzione superiore Galilei in compagnia del dirigente scolastico che è il professor Corrado Dell'Olio. Intanto ci parla un po' di questa scuola, di cosa fate e quali sono le prospettive. Bene, la ringrazio tanto. La nostra scuola è un istituto tecnico che opera su entrambi i settori degli istituti tecnici, quindi sia sul settore economico e sia sul settore tecnologico. Sul settore economico noi abbiamo l'indirizzo di amministrazione finanza e marketing che poi si sviluppa nel corso del secondo triennio in amministrazione finanza e marketing, relazioni internazionali per il marketing e sistemi informativi aziendali che sono delle articolazioni dell'indirizzo generale. Mentre invece il tecnologico è fino ad ora stato limitato all'indirizzo di costruzione, ambiente e territorio, gli ex geometri. Da quest'anno abbiamo due novità, una sul settore economico, l'altra sul settore tecnologico. Sul settore economico abbiamo nella degli spazi di perfezionamento della nostra offerta formativa nella europrogettazione, cioè cerchiamo, poi la collega Giulio Cesare vi spiegherà più nel dettaglio, cerchiamo di dare ai ragazzi delle competenze che possano essere spendibili nel campo della consulenza della progettazione europea. Cioè far sì che i ragazzi possano essere in grado di sapere dove andare a cercare i finanziamenti europei, come fare i progetti, come gestire i progetti, come rendi contati, perché sono delle competenze che non sono un po' alla portata di tutti, non sono delle competenze di senso comune, ma vanno costruite attraverso uno specifico progetto. Mentre invece abbiamo nell'indirizzo tecnologico l'attivazione dell'indirizzo grafica e comunicazione, l'indirizzo di grafica e comunicazione che invece vuole formare dei professionisti nel campo della comunicazione del design, del design industriale, del web design e i più in generale anche professionisti della comunicazione in tutti quanti i settori nei quali la comunicazione diventa un asset assolutamente indispensabile. Quindi potrebbe essere un ottimo indirizzo per ragazzi che hanno una spiccata creatività ma che vogliono poi avere anche la concretezza di un risultato spendibile a livello occupazionale. La professoressa Stefania Giudo Cesare è responsabile del progetto di alternanza scuola-lavoro, una scuola che cerca di essere al passo con i tempi come tutte le altre scuole che sono in territorio nazionale. Voi in particolare cosa proponete? Noi proponiamo questa importante novità di un corso di studi ad indirizzo europeo, cioè affrontando nuove tematiche che sono le tematiche riguardanti l'Unione Europea. Queste tematiche verranno affrontate in questo corso di studi sia nell'ambito delle discipline più tradizionali quali quindi la storia, l'italiano, la geografia ma anche poi inserendo queste tematiche nell'ambito delle discipline di indirizzo quali appunto il diritto, infatti tratteremo il diritto europeo, le relazioni comunitarie e internazionali, l'economia aziendale che in particolare si occuperà proprio dell'europrogettazione. Per autoprogettazione si intende insomma un'attività diretta a realizzare, gestire e rendicontare i progetti europei. Cioè tutti quei progetti che qualsiasi tipo di azienda privata, appartenenti a qualsiasi settore dell'economia, a partire quindi dall'agricoltura, l'industria, i servizi e qualsiasi ente pubblico, possono realizzare proprio per poter accedere ai fondi europei. E oggi sappiamo che i fondi europei rappresentano la prima fonte diciamo di sviluppo dell'economia perché sono quei fondi che permettono poi alle imprese e agli enti di fare gli investimenti. E la scuola si vuole inserire in questo discorso proprio attraverso questo corso di studi che preparerà i ragazzi su tutte le tematiche, le problematiche sia economiche che finanziarie riguardanti appunto l'Unione Europea. L'Unione Europea è un po' il futuro di tutti i giorni guardano a questa nuova realtà con tutte le problematiche che ci sono. Quindi siamo stati lungimiranti nel pensare. Certo siamo stati lungimiranti però questa decisione è stata presa dopo aver fatto proprio un'analisi del mercato, un'analisi dei fabbisogni formativi e abbiamo visto che c'è proprio bisogno di figure di questo genere che siano preparate appunto in relazione a tutto ciò che riguarda l'Unione Europea perché ricordiamoci che non siamo solo cittadini italiani ma siamo anche cittadini europei e quindi siamo proprio diretti ad espandere tutte le nostre attività, le nostre conoscenze in un ambito più ampio che non riguarda solo il territorio italiano o il territorio locale. L'imprenditore Gianluigi Angeloni si è aggiudicato i lavori di ristrutturazione dell'hotel Dei Marzi di Avezzano da parte della cooperativa Edil Copa Abruzzo di cui è presidente del Consiglio di Amministrazione. È un importante risultato conseguito dalla cooperativa di Chiara Angeloni nell'interesse delle imprese socie che avranno la possibilità di lavorare in un momento particolare di crisi del settore immobiliare. Edil Copa Abruzzo è nata alcuni anni fa per volontà della CNA di Avezzano, precisa Pasquale Cavasini, direttore dell'associazione ed a novera nella propria compagine societaria, imprenditori dell'edilizia ed affini. In questi anni ha svolto gratuitamente 27 corsi di formazione e di aggiornamento professionale, sempre per i soci, ha partecipato ad alcune gare d'appalto ed ha effettuato diversi lavori ai privati. Mi comprimento con il Presidente, continuo Cavasini e con l'intero Consiglio di Amministrazione composto dagli imprenditori Luciano Massimi, Tancredi Innocenzi, Massimiliano Buccini, Francesco D'Amore, Concezio di Giambelardino e con i tecnici architetti Claudia Compagno ed Ilaria Andres per essere riusciti a garantire alle imprese una significativa opportunità di lavoro. Questa è la dimostrazione, conclude Cavasini, che le strategie associative applicate dal CNA per le piccole imprese risultano essere vincenti e vantaggiose per le imprese e per l'economia locale. Si è tenuta, giovedì scorso, la riunione del Comitato di coordinamento regionale competente in materia di valutazione impatto ambientale con all'ordine del giorno la discussione del progetto riattivazione dell'impianto idroelettrico vecchia officina da realizzarsi sul fiume Giovenco nei territori dei comuni di Pescina e Ortone dei Marsi ad opera della società Wind Turbine Engineering. Il sindaco di Pescina Stefano Iunanella, presidente degli uffici della regione Abruzzo insieme al sindaco del comune di Ortone dei Marsi Manfredo Eramo, al presidente del circolo pesca di Pescina Adamo San Benedetto e dal presidente dell'associazione locale dei Tartufai Palmerino Pannecaldo, ha richiesto in qualità di soggetto interessato l'audizione presso il Comitato al fine di ribadire con forza e con le argomentazioni necessarie sia di ordine tecnico che di ordine socio-politico la contrarietà alla realizzazione dell'impianto idroelettrico da parte dei due enti comunali, cioè Pescina e Dottone dei Marsi e delle due associazioni locali in quanto portatori di un interesse legittimo. In particolare, tenendo conto delle osservazioni al progetto presentate l'11 ottobre 2014 dal comune di Pescina, Iunanella ha messo in risalto come i dati utilizzati nella relazione ideologica già vetusti all'epoca della redazione del progetto oggi risultano davvero poco attinenti alla reale situazione del fiume Giovenco che nel corso degli ultimi anni ha subito una notevole diminuzione del flusso delle acque. Per queste ragioni i sindaci di Pescina e Dottone dei Marsi, nonché le associazioni presenti, aveva ribadito la necessità da parte del Comitato di Valutazione o di una sua delegazione di effettuare un sopralluogo nei luoghi interessati all'intervento durante i periodi di maggiore siccità al fine di verificare la reale portata d'acqua del fiume Giovenco. Avendo sentore che il Comitato rilascerà a breve il nulla osta al via e che nessun sopralluogo verrà mai effettuato, gli enti ed associazioni interessate preannunciano un'assemblea pubblica alla quale saranno invitati tutti i portatori di interesse valutando altresì la possibilità di un ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale. Bene, ora passiamo allo sport, al campionato di eccellenza. Il derby tutto marsicano tra il Capistriale e il Paterno si è concluso con un pareggio 1-1, risultato che ha permesso alla capolista vastese di distanziare proprio il Paterno di sei lunghezze. Vediamo comunque il servizio. Derby che sa un po' di ultima spiaggia per i rispettivi 11 impegnati oggi al Comunale Capistrellano. I Granata cercano di avvicinare la zona play-off e il Paterno Lavastese, prossima avversaria dei Razzurri. Parlavamo di spiaggia ma l'estate è davvero lontana oggi, già dai primi frangenti flagellati da una sorta di diluvio universale che non comporterà la sospensione solo per merito del sintetico. Il campo però racconta poche storie epiche e nemmeno di pregevole fattura. Quarto di Gaetano al limite dell'area piccola non trova lo specchio della porta. Decimo tocca al 7 del Paterno rendere pan per focaccia al proprio collega di reparto ma il risultato per Albertazzi è pressoché lo stesso. I restanti minuti sono buoni più per testare talenti della pallannuoto che del pallone. Intanto il vice allenatore di casa Gigli osserva come un moderno totem o come quei pupazzetti degli orologi a cucù. Bel tempo prima e ora tormenta. E noi passiamo alla ripresa che sembra promettere meglio almeno per questa azione in avvio che vede il giovane Daniele Venditti chiamare l'esperto di Girolamo alla deviazione in angolo. Continua a piovere però e il ritmo scema di nuovo. Il Paterno poi insiste nel giocare parla a terra e paga anche gli episodi oltre alla solida clava granata. Decimo mauti pesca adema la sponda aerea davvero beffarda che non lascia scampa di Girolamo. 1-0 e ospiti cercano il bandolo della matassa senza successo. Poi al 32esimo gli uomini di Torti rimangono in dieci per l'espulsione combinata a scapito di Luca De Meis e la circostanza rianima il Paterno che al 35esimo mette su la percussione del secolo. Batti e ribatti davanti a croce miracolato dall'imprecisione altrui. Al 40esimo però i paternesi riequilibrano le sorti del match quando sempre croce paga cara un'indecisione e mette giù l'esperto Gabrielli che manda sul dischetto Vinicio Paris freddo nello spiazzare l'estremo locale. Paterno rivitalizzato ma confusionario nelle ultime fasi capace di produrre diverse incompiute come questa al 47esimo quando Santucci però non impensierisce il numero 1 Granata. È il canto del cigno per due club costretti ora a sedersi in riva al fiume in attesa che passino cadaveri altrui per i rispettivi obiettivi. Da partita con Mirko Di Fabio è stato un match veramente particolare condizionato dalla pioggia dalla grande. Sicuramente la pioggia ha fatto il suo insomma la partita è stata giocata più che altro su palle lunghe perché ovviamente su un campo del genere non puoi giocare a calcio quindi molta attenzione da entrambe le parti poi gli episodi hanno sbloccato la partita. Bravi voi ad adattare il vostro gioco alle condizioni del campo? Noi siamo stati concentrati praticamente per tutta la partita peccato poi la mancanza di concentrazione alla fine che ha portato il rigore del paterno e poi il pareggio però sicuramente abbia fatto una grande partita. Il rigore c'era? Questo lo lascio dire agli altri non mi esprimo su queste cose. Mister Iodice è un pari che chiude il discorso primo posto? No non credo perché ancora mancano nuove partite abbiamo scontro diretto domenica prossima quindi chiaro che se non vinci lo scontro diretto poi resta tutto più difficile però proviamo sta partita per la prossima settimana con la pastese e vediamo quello che succede. Un pari frutto di cosa? Scarso spirito di adattamento al campo e alle condizioni del campo? Sicuramente il tempo è condizionato ma per tutte e due le squadre non solo per noi. Chiaramente qua fare punti a capistare non è facile lo sapevamo è un campo difficile però credo che poi alla fine il pareggio sia stato quello più giusto. Visto da fuori è sembrato che loro siano stati più bravi ad usare la clava rispetto a voi? Nel senso voi avete provato a giocare palla a terra loro hanno scavalcato il centro campo? Sì beh ma noi ci proviamo sempre a giocare palla a terra poi ci stanno a volte che ci riesce a volte che non ci riesce però è chiaro che come detto prima qua fare punti a capistello non è facile quindi io credo che il pareggio poi sia buono perché poi dopo ci siamo perditi che la pastese ha vinto ha perso non lo so che vediamo che succede poi si parlerà del campionato. Vinci ad aspettare e sperare? Sì beh ma è normale solo questo possiamo fare quindi. Diciamo che non è la condizione ideale e peraltro oggi hai provato Stornelli di nuovo in prima linea? Sì ma noi purtroppo non abbiamo una prima punta di ruolo quindi sto cercando di provare più soluzioni a volte Stornelli a volte Miciche a volte Cataldi però purtroppo non ci abbiamo quelle caratteristiche come prima punta e per forza di cosa dobbiamo provare altre soluzioni. Calcio di rigore c'era? Dalla panchina sembrava di sì poi non lo so se era né però dalla panchina sembrava di sì. Mister Torti più soddisfazione per aver fermato il paterno o rimpianti? Perché abbiamo fatto un'ottima partita al di là del paterno abbiamo fermato. Il paterno non c'entra niente noi dobbiamo guardare in casa nostra non in casa degli altri come fa qualcun altro quindi noi dovevamo fare la prestazione perché venivamo da una bruttissima prestazione a Città Sant'Angelo dovevamo immediatamente riscattarci l'abbiamo fatto penso bene. Nonostante tre assenze pesantissime? Questo è il periodo però vedo che chi gioca poi non fa rimpiangere chi gli assente per cui questo periodo è così dobbiamo cercare nel più breve tempo possibile di recuperare qualcuno e andarci a giocare poi le partite con qualche soluzione in più. A livello tattico cosa ha avuto in più il capistello rispetto al paterno? Ha letto meglio la partita? Il capistello penso che abbia interpretato bene la partita chiudendo loro gli esterni perché aiutati dal campo? Dalla pioggia diciamo. Il campo è per noi e per loro cioè non è che anche a noi. Gli esterni corrono di più ecco con la scelta. Su un campo del genere non è che sono aiutati aiutati dovevi interpretare la partita magari fare meno fronzoli e andare più al sodo cioè noi abbiamo fatto questo tipo di partita sapevamo che il paterno è una grossa squadra l'abbiamo preparata bene penso che alla fine siamo stati premiati anche se poi giustamente avevamo fatto anche la bocca su un discorso di vittoria però poi asciuto il pareggio ci prendiamo questo pareggio. A proposito continuiamo il nostro sondaggio era o non era calcio di rigolo? No dalla panchina non lo so perché stavo troppo lontano io penso che ci sia stato un piccolo errorino da parte nostra dalla nostra linea difensiva perché devo vedere se poi la palla è stata chiamata o meno perché se non è stata chiamata quella palla non deve passare dentro l'aria. Questa. La situazione infortunati anche se insomma ci sono delle differenze? Beh allora penso Antonelli la prossima settimana dovrebbe essere a disposizione per quanto riguarda l'epre è un discorso molto più lungo e anzi anzi questa prestazione è così la dedichiamo a lui perché in questo momento ho altro a cui pensare per cui lo sport poi passa in secondo piano quando ci sono questi problemati. Ed è me se dobbiamo valutare un attimino c'è uno stiramento al collaterale vediamo se si è riassorbito questa edema e vediamo se riusciamo a recuperarlo e Iacoboni dovrebbe essere a disposizione almeno penso che un paio di giocatori li recuperiamo. Tutta questa situazione qual è l'obiettivo verosimile? Quello di fare bene di fare al più presto i 40 punti che servono per mantenere la categoria e poi quello che viene ce lo prendiamo secondo me possiamo fare bene. Bene prima dei saluti vi ricordiamo che questa edizione del telegiornale la potrete rivedere integralmente sul nostro sito internet www.antenna2tv.it tra le altre cose sarà possibile di rivedere i vecchi servizi che Antena 2 ha realizzato nel corso degli ultimi anni. Grazie della gentile attenzione a risentirci alla prossima edizione. Grazie. Grazie a tutti.